La classifica del Lume Zane ora piange davvero. La sconfitta per 1-0 contro la Gianna Erminio ha il sapore della sentenza senza appello dello sconforte della crisi d'identità della squadra Valgobina. Una sconfitta pesante di quelle da far riflettere e pensare squadra in silenzio stampa e posizione del tecnico Paolo Nicolato nuovamente in bilico, lui che appena è stato chiamato al timone del rosso-blu per l'esonero di Giancarlo Dastoli. Un Lume Zane tratti disarmante quello visto all'opera contro la Gianna Erminio senza idee, quelle poche messe in campo alquanto confuse. Quint'ultima posizione per il Lume Zane in classifica con 19 punti e in piena zona play-out. Lampadina rossa accesa a livello di allarme alto in casa della società del patron Renzo Cavagna per una stagione fino ad ora molto al di sotto delle aspettative e dell'attese. A rendere amaro il pomeriggio di sabato dello stadio Saleri Andrè Gasbarroni 1 che in carriera ha vestito le maglie prestigiose tra le altre di Sampdoria e Juventus. Il gioco illuminante del fantasista ha permesso alla sua squadra di espugnare il campo del Lume Zane grazie ad un gol di Perna arrivato con una classica azione di contropiede errore di valutazione nella circostanza di Belotti a tenere in gioco Perna consentendogli la cavalcata in rete. Lunedì prossimo contro la Reggiana sarà vietato sbagliare. Un nuovo passo falso potrebbe davvero pregiudicare la rincorsa alla salvezza della compagine Valgobina. Un nuovo K.O. potrebbe addirittura nuovamente rimettere in discussione la posizione del tecnico Paolo Nicolato.